Il regionale per sordi si concentrano sulla realizzazione del passante alta velocità che prevede il sotto attraversamento, il cosiddetto tunnel ferroviario della città e la nuova stazione alta velocità di Firenze-Belfiore. Il via è stato dato stamani alla presenza del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha così commentato che questi lavori sono la dimostrazione che nulla è impossibile. Dopo l'accensione della fresa è previsto per l'estate 2023 l'inizio dello scavo durante il quale saranno svolti in contemporanea i lavori di realizzazione della stazione, Belfiore. Il completamento dell'opera è previsto per il 2028. In cinque anni sarà terminato lo scavo di 7 chilometri, ha detto Salvini, questo si può fare ascoltando i territori e spiegando. Separare le linee, ha aggiunto, è fondamentale. La TAV riguarda non più del 20% degli utenti, l'80% usa i regionali, l'intersiti e fa dunque il pendolare. Tanti temi affrontati oggi da Salvini, tra questi il sistema aeroportuale toscano, gli aeroporti di Firenze e Pisa, ha detto, hanno due target diversi, due obiettivi diversi e due potenziali di crescita differenti. Per cui l'uno non toglie nulla all'altro. Poi aggiunto, non siamo al tempo dei Guelfi e Ghibellini dove se vince uno perde l'altro. Può vincere sia Firenze che Pisa, ma questo vale per tante altre realtà italiane. Ora parliamo delle elezioni amministrative. 92, i comuni toscani al voto, tra i capoluoghi Massa, Siena e Pisa, in tutte le amministrazioni sopra 15 mila abitanti, possibile il ballottaggio. Se nessun candidato ottiene la metà più uno dei consensi. 6, compresi i capoluoghi, centri sopra i 15 mila abitanti. In generale molto bassa l'affluenza per quanto riguarda la Toscana. E lutto a Siena per la scomparsa di uno dei candidati al Consiglio Comunale nelle file del PD. Federico Pacciani aveva solamente 37 anni, era candidato nella lista del PD a Siena e lavorava, come ha detto, alla sostenibilità presso la banca Monte dei Paschi. Aveva due lauree, lettere e scienze politiche. Da tempo si batteva sui temi della disabilità. Era diventato in città un punto di riferimento. Il cordoglio del PD e l'abbraccio alla sua famiglia è stato espresso dal segretario provinciale Andrea Valenti e da tutto il gruppo dirigente. Atto vandalico nella fortezza medicia di Siena, dove i gnoti hanno divelto un ipocastano da poco messo a dimora. La pianta è stata spezzata di netto ed era stata da poco impiantata dall'amministrazione comunale nell'ambito degli interventi per la riqualificazione dell'area verde al posto di un albero ritenuto pericoloso per l'incolumità pubblica. Ma il Comune di Siena ha annunciato che sarà impiantato un nuovo albero. Daspo Urbano a Pisa per due minori che insieme ad altri adolescenti circondarono e colpirono a calci e pugni tre studenti universitari fuori sede la sera del 25 marzo scorso in Piazza Dante. Lo ha stabilito la questura su proposta dei carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti e che avevano già denunciato cinque presunti responsabili. L'aggressione fu innescata dopo una pretestuosa provocazione. Ai malcapitati furono causate contusioni multiple con prognosi di guarigione di una settimana. Il Daspo Urbano per i due minorenni vale due anni. Consiste nel divieto di accedere o stazionare vicino a esercizi pubblici della vita serale e notturna cittadina e nel perimetro del centro. In caso di trasgressione rischiano la denuncia penale e la condanna fino a due anni di reclusione. È dedicato ai corpi intransigenti il Toscana Pride 2023 che si terrà sabato 8 luglio a Firenze. Lanciato il manifesto realizzato dall'illustratrice Luca Dora della manifestazione che torna nel capoluogo toscano dopo sette anni. Tante le rivendicazioni contenute nel documento politico del Toscana Pride dove si chiedono leggi, tutele e diritti adeguati alle necessità di ogni individuo. Fra tutte una nuova legge in sostituzione della 164 dell'82 che tuteli le persone trans e non binarie rendendo più veloci, snelli e accessibili i loro percorsi di affermazione di genere. Parliamo ora di star dello sport Marcel Jacobs, Fred Kerley, Trayvon Bromel e l'attuale leader mondiale stagionale Ferdinand Omaniala sono tra i protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea la cui 43esima edizione si disputerà il 2 giugno allo stadio Redolfi di Firenze per la tappa, la terza, della Vanda Diamond League. In totale presenti 15 campioni olimpici e 31 campioni del mondo. Il caro bollette in Italia tocca anche rifiuti con la cifra media della Tari che nel 2022 ha toccato 325 euro di media con un aumento del 3,7%. Negli ultimi 5 anni la Tari è aumentata in media del 7,7%. Sono i dati di un'indagine realizzata dal sindacato Will in valori assoluti le famiglie italiane hanno versato per il quanto riguarda il 2022 325 euro medi per la tariffa rifiuti a fronte dei 313 euro del 2021 Il costo maggiore si registra a Pisa con 519 euro medi l'anno a famiglia Il campione dello studio si riferisce a una famiglia formata da 4 persone con una casa di 80 metri quadri e un reddito ISEE di 25.000 euro E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana molto nuvoloso o coperto con precipitazioni anche a carattere di rovescio su gran parte della regione più insistenti e abbondanti sulle zone appenniniche i venti moderati o forti dal nord-nord-est i mari mossi fino a molto mossi dal pomeriggio al largo Temperature minime insensibili a aumento e massime in calo È tutto per questa sera Grazie per averci seguiti Arrivederci